cosa faccio oggi preparo il pane al latte inizio setacciando mezzo chilo di farina di tipo zero se vedete sulla planetaria non ho messo il paraspruzzi perché tanto non spruzza quando faccio il pane a parte quello ma anche l'impasto che si scalda meno potete farlo anche col metodo che usavo in precedenza con il fruste quelle elettriche mettevo le fruste a spirale se guardate sul video dove preparo il pane si vede questo procedimento oppure farlo a mano l'impastatrice poi aggiungo direttamente 20 grammi di lievito secco madre questo me lo faccio mandare dal mulino dove prendo il pane farina dappertura e cui ho iniziato a mettere nella ciotola la farina con il lievito secco adesso lo faccio girare un attimino a velocità diciamo moderata la minima così almeno mescolo bene le farine e poi comincerò con l'aggiungere un po alla volta il latte bene giù la testa e poi un po alla volta si aggiunge cos'ha il sneaky? questo è il mio cagnolino che fa dei mini urlati perché mio marito è uscito in giardino molto piccolo è un maltese piccolino così un pochino alla volta il burro va fatto a pezzettini piccoli eh questo si aggiunge alla fine adesso inizio a mettere il latte un pochino alla volta deve assorbirlo eh ecco la planetaria la lavorazione è un po' diversa insomma anch'io mi sto un po' in pratichendo perché se guardate sul mio canale ho fatto la recensione ma l'ho presa da poco tempo insomma il pane l'avrò fatto forse sei volte eh panini di tutti diversi e campiamo di mettere alle ricerche continuiamo aggiungendo continuo aggiungendo un po' alla volta il latte fino a quando non viene mai da noto eh un po' che ci stava avverando continuo aggiungendo un po' alla volta il latte come si sta avvicinando un po' alla prossima anche se stava avvicinando un po' allo anche se stava avvicinando un po' alla prossima e quindi ci stava avvicinando un po' alla prossima si sente proprio che l'impasto sbacco dalle pareti della ciotola quando c'è di fronte la palla è fatta, bene guardate adesso la porto giù e abbatto la velocità qui un po' alla volta perché bisogna mettere il burro quando bisogna farlo è una velocità più bassa mettiamo alla minima e mettiamo un pochino alla volta i pezzettini di burro che lui se li mangia metcoli lì così comincia a incorporarli metcoli e anche a me lo tira su tiè mangia un po' di burro? eh lo mangia eh? uh cavolo che lo mangia ho bagnato la mira dentro tac quello di burro e l'ultimo ingrediente l'ho messo mettiamo in pieno di olio con la farina perché bisogna fare le pieghe poi la lascio riposare un pochino poi la metto a lievitare bene alzo un pochino qua in velocità il burro l'ha incorporato adesso possiamo andare un attimino e si fa la palla vedete qua come si è arrotolato attorno eh l'impasto è proprio come se fosse un elastico tutto arrotolato attorno è perché si è formata la maglia glutinica e questo è pronto bene adesso lo metto sullo spianatoia ok impastiamolo leggermente bene eccolo qua bene tiriamolo un po' sotto ecco 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 qua si chiude bene lo lasciamo riposare dieci minuti eh mentre riposa io comincio a imburrare la ciotola dove lo metterò a lievitare burro non l'olio mi raccomando perché se no rovinate tutto il sapore ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua 10 minuti sono passati adesso lo metto nella ciotola metto la plastica e lo porto a lievitare andiamo a lievitare via ecco qua l'impasto è pronto ecco è evitato bene eccolo qui ecco qua 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 a metà e metà la rimetto dentro la ciotola figato e sotto e metto la plastica che sarà la seconda fornata eccoci qui allora per prima cosa lo chiudo da questa parte perché non deve uscire l'aria da qui adesso il mattarello perché voglio fare dei panini abbastanza piatti e quadrati si fa ovviamente con delicatezza e quest'operazione a scoppiare bolle che ci sono nel pane semplicemente si fanno distendere bene ecco adesso si dà le forme che si vogliono ad esempio non è molto regolare la forma allora magari con il primo farò così c'è un po quello che faccio col panini dolci poi resta anche bello da vedere bel speciali con la bocca aperta adesso infarino un po qui metto qua e dopo secondo se vi volete fare più o meno piatti potete appiattirli ancora un pochino tanto poi questi tornano su anche qui ecco questo lo taglio un po insomma come voglia di tagliare posso fare anche così è e lo giro lo giro faccio una specie di di rotella così insomma è che bello avere dei panini con delle forme un po particolari sul tavolo e poi invece faccio proprio i panini allora la grandezza che va bene a tavola può essere questa insomma tagliarlo in tre parti ecco così è così questa potrebbe essere la misura giusta e poi non si sbizzarrisce ok mettiamo di qua e lasciamo certi fino a quando il forno pronto è ecco qua non succede niente si lasciano qui tranquilli a riposare nel forno come al solito ho messo la bacinella dell'acqua in modo da avere il vapore che permetterà al pane di lievitare immediatamente la temperatura per questo tipo di pane è di 220 gradi lo lascio 20 minuti questo perché altrimenti tende a scurire troppo così bene va in forno è ci staranno 20 minuti e dopo è pronto ricordate che i due ingredienti principali sono il latte e burro bene provate a farlo perché è un pane molto buono e soffice allora vi faccio vedere come ecco qua a questa crosticina è soffice come pane ma non molle vedete sono restati i buchini è idratato anche questo anche se bisognerebbe dire lattato visto che c'è latte non l'acqua ok bene allora prova assaggio è buonissimo buono è morbido ciao a tutti amici grazie per essere stati sul canale di mixer e mix se volete iscrivervi ricordate di azionare la dene 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 campanella e sarete aggiornati sui video nuovi quando li metterò ciao